Siria, ci hanno chiesto di te, ci hanno chiesto di vederti, eccola qui la bellissima Siria bella, bellissima, è una regina, Siria è molto regale, ecco, ecco la banda, ecco la banda dei suoi fratelli Siria? Siria? è amica di tutti ed è molto serena, ma non è un buon motivo per rimanere tutta la vita in un rifugio, Siria, 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 dove è andato papà Tori, Siria, lo stai aspettando? Siria non ama la confusione e si arrivano tutti i suoi fratelli e le si scansa, eccolo papà è arrivato dove era andato a prendere qualche papà? a presto a presto sì, è un cane discreto e non ama la confusione e se c'è troppa confusione si mette per conto suo eh no, eh no, papà Tori è mio eh il problema di Siria è che è tutta nera e non si riesce a vedere bene il suo sguardo molto intenso è proprio una principessa a presto a presto a presto a presto a presto a presto